Ok, let's go 35 stack Più uno stack ho qui E più degli stack ho messo in questa cesta Perché avevo paura che si li empisse Quindi, GG Abbiamo la cobblestone ragazzi, non ci credo Abbiamo la cobblestone romantica In più, non so, sono logate C'era questa cosa Che Wow, che cazzo vuoi tu Wow, che sembra un player Ma in realtà non lo è Mi picchia Che cazzo, ma vaffanculo Non posso ucciderlo Ma, eh What Adesso io non so di che modo sei tu Ma Sali qui Brava Vai giù, vai giù Eh, sì, sì, io non so cosa cazzo sia E cerco di farla Tornare qui Dammi La cobblestone Cerco di rintrappolare la letra Perché rompo un po' le palle E vieni qua Sopra 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 Ok, vieni qua Vieni qua Vieni verso di me Youhoo Verso di me Beh Ti picchio Oh, posso picchiarla Vai giù Ok Io non so che cosa cazzo sia Però va bene così Così arriva Non era un player ovviamente Perché sono in un modo in single player Quindi, sì Sarà qualche modo che lo giunge Non so veramente che cosa sia Però va bene così Noi ci fidiamo Allora, obiettivi di oggi E' automatizzare Il processo più noioso del mondo Ovvero Questo Oltre quando teoricamente Non si può automatizzare Nella nuova versione Della Ex-Nihilo E non si possono usare Gli autonoms activi Per cliccare col destro Su un sieve Però Io Sono detto Nelle configurazioni E ho detto Ma fa un culo Io voglio automatizzarla Questa cosa Perché non me ne frega niente Se il creatore della mondo Vuole automatizzarla Io l'ho automatizzato lo stesso E allora Sì Possiamo automatizzarla Perché noi siamo speciali E Sì Lo so che ho un po' Cheater Ma Ehi Io non sto lì a setacciare Tutto il giorno E la notte E la mattina E' una cosa assurda Quindi Ah Tra il resto E' piovuto E Sì Si sono riempiti tutti Questi vari lì Di nuovo E Penso di spaccarli Tutti E riempirli Perché non ha senso Tenerli pieni Quindi Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E metterei una slab Sopra Al di più Perché Ora Come ora Non mi serve più l'acqua Perché ho la fonte infinita Quindi Posso mettere Posso lasciare proprio due Vuoti Solo in caso Se ripiovesse E in caso Mi fossi Avessi ucciso La fonte dell'acqua infinita Ecco Cosa che non succederà mai Perché me la terrò lì Come una bambina Però Sì Nel caso Non ci fosse più Se piovesse Posso rifarla Quindi Quindi Quindamente Quindi Today 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 We are here to do Things Quello che ci serve Per l'obiettivo principale Di oggi E' due Autonomous Activator Che si cretano Con un piccone Di tin gear Uno chest E un pneumatic server Quindi principalmente E' solo tin E ferro e redstone Tin, ferro e redstone Quindi Guardiamo le nostre riserve Di tin Al momento Sono Qual'è la tin? Sono questa Eh sono questa Beh non sono niente male Della verità Perché possiamo Rimettere questi Tre qui dentro E possiamo creare Quattro lingotti di tin Che ci bastano Per un ingranaggio Dei quattro Che ci serviranno E voi direte Perfetto No in realtà no Ma vabbè Possiamo sacrificare Uno dei nostri pezzi Di carbone Anche se non è sacrificato Ehi 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 Del resto Già che Aviamo i materiali Io farei Un po' Più Fornaci Perché Ehi Why not E allora Togliamo qui Qui E qui E mettiamo Tutto fornaci Così Così Proprio giusto Per Per avercele Tin ingot Della ex di Hilo Cosa possiamo farci It in gear Eh sì Chievo Chievo l'ancro Chievo l'ancro Con la tin Anche Ok Niente Tic canister Si Iron plating Cryoterm Cruelant unit Minchiate varie Tutte cose che faremo dopo E sì Insomma Ferro e cosa Mi piacerebbe avere anche una di queste Principalmente sono ferro e Tin Quello che mi servirà oggi Quindi farò un po' di gravel Boom Prendiamo uno stack di cobblestone E lo Distruggiamo Non chiedetemi perché le Le faccio così Le Le mie cose di cobblestone E non faccio un quadrato ma È troppo figo Dai E' troppo figo Ok Stavo dando un'occhiata qui E stavo guardando Vedete la flint per esempio C'è il 25% Che esca Il ferro 20 L'alluminum 13 Il carbone 13 E coppia e la tin 6 Che è Meno dei lapislattoli Voglio dire C'è meno possibilità Che ci esca un lapislattolo O della tin Ma ne abbiamo 10 Più 4 che abbiamo già usato Contro la tin Che ne abbiamo di meno Sicuramente Quindi non lo so È un po' un controsenso Possiamo intanto Craftare il nostro Primo Tin Gear Vicious Boom Che ci servirà Più in seguito Più in seguito Per il resto Una cosa che vorrei fare Sarebbe una buona cosa Appunto scambiare Questa chest Sì lo so che mi sono interrotto Ma ho ricevuto Una mini chiamata al telefono Quindi via Scambiare tutta Questa chest Qui dentro Perché Serve di più E tra un secondo Vedete Perché Tu vai tutto qui dentro Ovviamente Poi vieni tutto con me Vai tutto qui dentro Boom 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 Vabbè che si ritengo Perché No questo è nickel Non lo voglio Voglio la tin Dov'è la tin Tin Procantina Eccola qui E sì Poi possiamo dormire Mettereci a posto alimentario E visual back Ok appunto Dicevo Sarà utile Perché così Possiamo averla qui a fianco E possiamo usarla Per i nostri crafting Essendo che i materiali Sono abbastanza importanti Da avere nei crafting Solitamente E' una buona cosa averli Odio questa cosa Non vedo l'ora Di automatizzarla Sì Ci vorranno ancora due episodi Poi sa poco Però Forse anche uno Se riesco a fare Tagli tattici A sbrigarmi Ok ragazzi Siamo tornati Qualche stack di gravel E di dust Dopo Qualche bel po' Di stack di gravel E di dust Dopo Potete vedere che l'unica cosa Che vi manca E' la tin E l'iron E la ransom Perché li ho usati Come un porco Possiamo fare tre Autonomous Activator E' passata più o meno Un bel po' Allora 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 Ne voglio mettere Uno Vabbè Questo lo facciamo dopo Prima voglio fare Una piattaforma Qui Where is it Qui Boom E facciamo le slab Di cobblestone Per risparmiarla Perché ne abbiamo poche Ne abbiamo solo 64 stack Fatti Non so Me ne ha preso uno in più Sono convinto Perché me ne abbia preso Uno in più Però vabbè E Tiriamo giù Tutte queste slab Che non ci servono più Espandiamo un po' La nostra piattaforma Però voglio fare Le slab Perché così E' meglio Allora Ok ragazzi Siamo tornati Potete vedere Che ho un po' Espanso Qui la zona Espanso Espanso Ma vaffanculo La zona E Sì ho fatto Tutte le slab Perché mi sfiga No Adesso è tutto cobblestone Perché ho un materiale O è l'altro E qui nella zona di cobblestone Voglio Nel metà nella zona di legno Voglio un po' fare La zona della trifarm E la zona iniziale Quindi la tinkers construct Eccetera Ops E Voglio fare Appunto Quella zona lì Tutta la mia Automatizzazione Iniziale Quindi la ex nihido La tinkers construct La fornace Eccetera Sicuramente Dovrò rispanderla Prima o poi Ma per intanto Mi basta così Allora Allora Alloramente Allora Qui abbiamo il nostro Cobblestone machine Beaches Motherfucker 1 2 3 4 Poi da lì Vorrei fare In modo Che Io avessi qui E qui Due autonomous Activator Con però Oh cazzo Non ho pensato Ad una cosa Mi servono degli hopper Sì Dovrò tornare a fare Le Le cosette Lì prima Però Per intanto Qui Left click Quindi dovrei Ok Perfetto Qui Voglio Accettare Accettare da qui Non da lì Ma Non mi ricordo mai Ok È questa Così che la cobblestone Entri da qui Poi eventualmente Voglio un tubo Che rientri Qui dentro Ma vediamo E poi Ok Ok Siamo a posto Questa cosa Dovrebbe essere Più o meno funzionante Posso dirgli Di accettare dal top E Sì Siamo a posto Quello che voglio ora È Un martello Quindi Craftiamo Velocemente Giusto due tre Martelli In stone Facciamoli tutti Chi se ne frega Boom E una chest Boom Quasi Dai Ce l'ho quasi Non potete dire di no Una chest Che sarà Subito doppia Ma va bene Cazzo non posso Perché non ho gli hopper Ancora Mi servono tanti hopper Almeno Una Cinque Sei hopper Che sono tantissimo ferro Ragazzi Tantissimo ferro Quanto ferro ho? Quanto ferro ho? Dove sei ferro? Undici set Eh no Non ci la faccio di sicuro Non ne faccio neanche uno E Servono anche dei transfer Oh no Perché ragazzi Perché mi vuole fare male Vabbè 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 Vedremo più tardi Tornerò A setacciare più tardi Per Ferro Principalmente E per Redstone Che sono le cose Che normalmente mi servono Ad ogni modo Se io adesso Metto la cobblestone Qui dentro E sto qui Così Fk Tu me la fai diventare Gravel Perfetto 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 Not sneaking Giusto In level Giusto Augmentation Non posso metterne Ok Sì Questo è più o meno Un macchinaio Fa gravel E poi Voglio un hopper Qui sotto Per raccoglierla Quindi Perché non vado A farlo subito E Lo voglio Rapidamente Metterlo sullo E fare Uno switch Quindi Andare questo Cazzo Ah Prendo la gravel Da qui Con la magnata E l'anei Ok Fair enough Fare uno switch Leggermente switchoso E Metterlo qui sopra Per bloccare Molto bene E poi voglio Mettere Una Chest Qui sopra Perché Qui ci sarà un hopper Eventualmente Boom Voglio farmi anche un bel piccone Della tinker Perché questo Ha ancora Zero Dura beta Quindi Forse andremo a farlo subito E E E qua voglio Mettere tutti I martelli Perfect Allora Perché non ci facciamo Un bel picconci Un cino Della tinker Cosa ne dite Vogliamo vedere Che Allora Intanto Il pickaxel L'ho già fatto No Allora facciamoci Il pickaxel pattern E ci serve Un tool rod Che lo faccio Di legno Per il momento Va venone E Un tool binding Che mi piacerebbe Farlo di carta Però non posso Quindi Ma il pattern Dove voglio C'erlo già Poi voglio vedere Com'è L'ossa Rispetto alla flint Come piccone Perché potrei usare La Ops Non la glowstone Ma Porca di quella La flint Vediamo com'è E 4.0 0,5 Contro gli ossa Che sono Non sono Contro gli ossa Che sono Che sono Non mi lascia farlo Quindi va bene Credo che andremo Per la flint Non so Come un'idea Credo che useremo La flint Quindi Prendiamo un po' Di flint Andiamo qui Facciamo un Pickard's head pattern Vicious blitz E il binding Il binding Ne abbiamo uno di legno Perché non usiamo Quello di legno Perché altrimenti Fa vedere Cosa potremmo usare Cobblestone E Ma si Dai usiamo La cobblestone Perché no E Proprio giusto Per dargli un po' Più di colore Perché non cambia Moltissimo Al momento Prendiamo qui Facciamo un piccone Facciamo così Così E così Facciamo un bel piccone Della tinker E Lo voglio anche Siccome è gratis Chiamare Mer Mer Merlo Pick Forse avete notato Questa è la Merlo Axe Quindi con la Merlo Axe Ci va anche la Merlo Pick Vediamo com'è Abbastanza buono Molto buono Direi E Posso ripararlo sempre Con la flint Che è una cosa che ho Quindi Andiamo a appoggiare Un po' Di materiali Che abbiamo in più E Sì Non sto facendo nulla In questo episodio Nulla Totalmente nulla Sfrughiamoci Hopper E' in questi momenti Che vorrei Cento miliardi Di milioni Che La Blade Powder Potesse diventare Blade Road Perché sarebbe così facile Fare gli hopper Invece mi serve il ferro Tre hopper Possono bastare Hopefully Perché Io non Non ci sisto più Vaffanculo Ok Quindi tu Dovresti essere a posto Sì Perfetto Poi voglio Un hopper Qui Sì Oddio Non sapete il mio odio Per gli hopper Quanto è profondo Bisogna fare così Hai rotto il cazzo Ok Perfetto Posso dormire da qui No Quindi mi servono Due chest E Scusatemi Tre chest A dire la verità Quindi Facciamone un'altra Tu stai qui Legno Non mi servi Perché Sono sempre Pieno di legno In questa serie Non so Così a caso Ho un alluminium Vabbè Così Così E così Perfetto Abbiamo Una slab qui sotto Proprio Fa cagare Ma va bene E Questo è il senso Dovremo poterlo aprire Se noi buttiamo qui qualcosa Ok Perfetto Perfettamente Perfettico Fase Va bene Fase 2 Di questo progetto Sarà fare I trans Sphere mode Uno che Qui Me ne servono Uno Due 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 transfer Node Vabbè Intanto Creiamo la struttura Allora Mi servirà Questo simpatico Ragazzo Qui E Sì Non posso Caffare un altro Sto pensando Lo userò L'imposizione Per il frammento Tempo Lo mettiamo Fammi pensare Qui Credo Sì Con delle Mura Tutto intorno E No Qui voglio l'hopper Che guarda in avanti Quindi Devo mettere un blocco Qui E fare così Sì Ce l'ho fatta E Mi servono altre due chest Quindi Una Due Ok Due chest Ho detto Non E Anzi Spero Comodità Comodise Siccome ho sempre legno In questa serie Facciamo così Facciamo una chest E una crafting Craftata alla vecchia maniera Proprio Alla 147 Cioè Alla 147 Indietro A dire la verità Così Così la mettiamo Qui È un punto Abbastanza centrale Ok 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 Poi mi serve Una slab Qui sopra Blocchi qui Questa chest Dovrei poterla Aprire Lo stesso Un altro blocco Qui E dovremmo essere Più o meno Apposito Apposito Poi ci serve Il nostro simpatico secchio E la nostra simpatica Acqua E la possiamo mettere Simpaticamente qui Così adesso Quando io Settaccerò Togliamo il magnete Boom Ok Quando io Settaccerò Ecco A parte Questi fastidiosissimi bug Questi fastidiosissimi bug Ma Non prendo in giro Ok I materiali Scoreranno Nella chest Perfetto Allora Io settaccerò Ancora un bel po' Perché mi serviranno Due transfer node Due transfer node E poi Dove avrò finito Transfer node Due Quindi mi servono Oh Cazzarola 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 Vi write back Quanto vorrei avere Un mob suoner Di enderpearl Ok ragazzi Voi non potete capire Quanto tempo è passato Ho anche fatto Un po' di pause Potete vedere Qui sotto c'è La roba che sono appena Rilogato Insomma E ho trovato Lui Non ci credo È spavolato Qui sull'orlo Ho una paura matta Che cadesse L'enderman Ora tu Se non mi dai Una fottuta perla Potrei Ti prendo Sì 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 Non mi serve più La redstone Me ne bastano Tipo Due Sì E finalmente Quattro Transfer node Oddio sono così contento Non potete neanche capire Allora 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 Adesso Vengono le cose belle Io posso fare così E qui metterò un filtro Prossimamente Perché mi servono Redstone e stringhe Quindi In effetti Questo per il momento Non mi serve Quello che per il momento Mi serve È dov'è la Ops Scusami È qui la Sì Tu Tu Per il momento Siccome sia un po' scomodo Fai così Grazie E Dammi la Tubo E Dammi l'autonomo Terzo Autonomous Boom E Girato dall'altra Dimmi che non ti perdo Se ti rompo quel piccone Per piacere Grazie E Come minchia faccio io adesso A girarlo da questa Il fottuto Vaffanculo E Devo girarlo di così Perfetto E Qui dietro Possiamo mettere Un Input Input Poi Dalla Chest Qui sotto Possiamo Far Uscire Un Transfer Node Che per adesso Prende tutto quello che C'è nella Chest E Però Appunto Cambierò E poi Che va qui Teoricamente se non è cambiato Dall'ultima volta che ho usato L'ex Utilisis Preferisco Decisamente Il conduit Della Della Terminal Strangion Però In questa Ozione Non sono ancora Stati Implementati Serve Dovrà uscire La Termal Dinamica Tutte cose Strane Esatto Posso cliccarlo Con Lo stick E far così Per non farli Connettere E adesso E adesso Siete pronti Se io Faccio così Lascio i Macri Andare Faccio Left Click E lo Accendo Vediamo se Funziona Questo diventa Gravel La Gravel Viene portata Nel transferno Viene portata Nello shifter Viene setacciata Da questo E Appena c'è l'acqua Me lo porta Lì Fantastico Ah ce l'avevo già È secchio Fantastico Questa è una cosa Assurdamente Etica Io non ci credo Potete vedere La cosa andare giù Gli oggetti Venire fuori E abbiamo Un generatore Di materiali Infinito Allora io adesso Porterò tutti i materiali Qui Lascerò Questo cosa andare Tipo all'infinito E Per questo video Io credo che possa essere tutto La frustrazione Del sieve È finita Io vi ringrazio per la visione E vi rimane nel prossimo video Che caricherò Ciao